ho fatto un insalatona con delle cose che avevamo già cotte nel frigo e quindi ho messo mezza patata bollita un barattolino giallo aspettate ecco un barattolino giallo di farro poi uno verde di insalata e uno verde di cavolfiore e poi un rosso e mezzo di pollo fatto così in padella velocemente buon appetito ora finalmente ora di pranzo oggi piadina allora una piadina così grande come quelle che ho usato vale due gialli poi ho messo un verde di insalata e un rosso di prosciutto crudo e poi il metà blu che mi rimaneva ho messo un pezzettino di feta sbriciolata sopra il prosciutto e un cucchiaino di gorgonzola spalmato sopra la piadina in modo che rimanesse attaccata all'insalata e questo qui è il mio pranzo ed ecco il pranzo di oggi allora ho uno e mezzo di verde con i crauti fatti con l'aceto balsamico un rosso di carne e petto di pollo tagliata di petto di pollo l'ho semplicemente passata in padella così l'ho fatta cuocere e poi sopra ho messo la cena perché è free e poi qui c'è un giallo di farro questo qui è il mio pranzo e anche loro più o meno ed ecco il pranzo con tia che brontola perché lo vuole anche lei vero fammi allora qui ho fatto oggi i pizzoccheri si i pizzoccheri allora ci sono due gialli di pizzoccheri poi due verdi di finocchi avanzati di ieri e mezzo rosso di tonno un cucchiaino di olio extravergine di oliva adesso vanno a mangiare che poi devo pensare a pia se no mi uccino per pranzo mi tengo leggera come ho detto a colazione perché poi già stasera mangerò carboidrati quindi ho fatto un passato di verdura quello dell'eurospin delicato senza patate senza legumi qui ci sono due verdi e poi mangerò questa robbiolina che fa un blu e basta questo qui è il mio pranzo allora per pranzo mi sono fatta quella focaccia dell'eurospin con dentro due uova le ho fatte a frittatina con un po' di cipolla in granuli e l'ho messa dentro un po' di senape che è free e i pomodori il tutto vale un rosso due gialli e un verde grazie tanto non ti fa giocare perché oggi gioca a lui basta basta oh silence the sound of silence come fai? prendi in giro? fai a letto? perché vuoi il cibo? dammi il cibo allora oggi per pranzo due verdi di crauti li ho fatti semplicemente in padella con un goccino d'olio un po' di soffritto e poi li ho fatti andare ci ho messo l'aceto basta senti niente di questi due sono hamburger vegetariani uno ai broccoli e uno alle melanzane con pomodori secchi non valgono rosso ma sono gialli quindi due gialli oggi a pranzo mangio questi hamburger poi un cucchiaino di maionese che va nei cucchiaini e la senape che è free e basta 1, 2, 3, come on 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 1, 2, 3, come on